Il registro anagrafe di sicurezza, RAS, in tre pillole. Da chi può essere redatto il registro anagrafe di sicurezza e in che forma? La predisposizione del registro di anagrafe di sicurezza è titolarità dell'amministratore di condominio, ma trattando vari aspetti, avendo conseguenze anche penali, è necessario che questi si rivolga a un'azienda che sia capace, dove con il termine capace si rimanda a competenze professionali non esattamente banali. Per esempio, i suoi professionisti devono avere una formazione adeguata ai vari aspetti della sicurezza. Per esempio, devono essere competenti in materia di strutture del condominio, di impianti, antincendio, eccetera. Devono avere una conoscenza approfondita della vasta normativa. E infine, devono avere una comprovata esperienza e capacità professionale, sia in ambito condominiale, sia in ambito di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Affidandosi un'azienda che abbia professionisti con tali competenze, ci si assicura che il registro risponda a tutte le richieste normative, e in più che sia uno strumento utile all'amministratore, di modo che questo possa costituire uno strumento di lavoro. Un documento chiaro, immediato, intuitivo. Una parola semplice, dove per semplice intendo che questi sia, per esempio, intellegibile a tutte le parti interessate. Quindi in primis all'amministratore del condominio, ma anche per esempio ai condomini, ma in senso lato, per esempio, anche a qualcuno che potrebbe avere interesse, per esempio una persona che voglia comprare un immobile all'interno del condominio. Deve poi contenere dei riferimenti normativi precisi, nonché dei riferimenti, anche in questo caso riscontrabili, sulla diversa documentazione presente. Per esempio, non mi basta scrivere che la dichiarazione di inconformità sia presente, bensì è molto più utile che ci sia un riferimento anche alla data del documento e magari anche a chi l'ha redatto, di modo che questo possa essere riscontrabile e rintracciabile. Infine, che siano chiare anche le scadenze, di modo che il RAS diventi uno strumento di lavoro per l'amministratore, che possa farlo diventare quindi un piano di lavoro quotidiano. Solo in questo modo il dettato normativo può dirsi rispettato. Per questo motivo il registro deve essere semplice, dove per semplice intendo che questo sia soprattutto intellegibile a tutte le parti interessate. Quindi in primis all'amministratore del condominio, ma anche ai condomini, o per esempio a qualcuno che voglia comprare un immobile all'interno dello stesso condominio. Deve contenere riferimenti normativi precisi e deve contenere anche dei riferimenti riscontrabili sulla varia documentazione presente. Quindi non mi basta dire, per esempio, che è presente la dichiarazione di conformità, bensì un riferimento alla data di questa e anche, per esempio, a chi l'ha firmata questa dichiarazione di conformità. Poi deve contenere anche le scadenze che siano chiare, precise, di modo che il RAS possa essere uno strumento di lavoro quotidiano per l'amministratore.